Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al covo di Weavile, io sono Stefano e in questo video oggi vi mostro un mazzo veramente particolare ma di quelli che secondo me dei mazzi così non avete mai visti Il protagonista del mazzo di oggi è Tsarina EX Questa carta non sta venendo considerata molto, se guardate i tornei online non la sta giocando praticamente nessuno però se la guardate bene in realtà è veramente forte Con il suo primo attacco infatti possiamo arrivare a mettere sì magari 30 danni su un pokemon che ha 60 punti salute ma 300 su un pokemon che ha 330 punti salute L'attacco di Tsarina EX in effetti è molto particolare e anche le carte che giocavo in questo mazzo sono molto particolari Prima fra tutte la maschera di panico che è una carta che non si vede praticamente mai nei mazzi competitivi Penso che questo mazzo sia competitivo? Ragazzi vi dirò, forse sì, bisogna provarlo ancora un po' dopo tutto sono carte appena uscite ma devo dire che mi ha sorpreso davvero tanto, è un mazzo molto consistente e molto forte Se vuoi procurarti le carte online per giocare questo mazzo puoi acquistare i codici su BuyPCGL Codes Ricorda anche che avrai uno sconto del 5% se scrivi Weaver al momento dell'acquisto Tsarina EX 310 punti salute Fase 2 Debolezza metallo È difficile mettere KO un po' a comando del genere ma presto vi renderete conto che sarà difficile metterlo KO anche per altri motivi Ha due attacchi Il secondo fa 180 danni e si cura di 30 Non ci interessa tanto questo attacco qua A noi interessa il primo, Gelopianta Gelopianta dice Mettisene di danno su uno dei Pokémon del tuo avversario fino a quando gli rimangono 30 punti salute rimanenti Ragazzi se stiamo attaccando un Pokémon che ha 60 punti salute li mettiamo 30 danni Se ne attacchiamo uno che ha 330 ne mettiamo 300 Se non ho davvero un sacco di danni ci vuole una sola energia per farlo Ora Quali carte possiamo giocare insieme a Tsarina? Ci sono varie opzioni Io ho provato varie versioni di questo mazzo qua Alla fine quella che mi ha colpito di più è questa qua Quella con Breivieri Breivieri ha un attacco che con 0 energia dice Metti 3 segnali di danno su ognuno dei Pokémon del tuo avversario che ha le segnali di danno Quindi In linea teorica cosa vogliamo fare noi? Mettere un bel po' di danni in giro con Tsarina Uscire con Breivieri e pescare un sacco di premi Questa è una cosa che Allora sulla carta Sembra forte Si dovrebbe vincere praticamente in un turno In questo modo In realtà nella pratica È difficile perché comunque l'avversario in un frattempo ti attacca Magari ti fa boss cappò su Breivieri Magari ti mette cappò Tsarina Non è semplice Qual è però la cosa che secondo me fa assolutamente la differenza in questo mazzo qua? Che noi giochiamo una maschera di panico Con la maschera di panico Noi preveniamo tutti i danni Inflitti al pokemon Che è assinata questa carta Se il pokemon che sta attaccando Ha 40 punti salute o meno Quindi voi con Tsarina Fate un attacco su un pokemon Che rimane a 30 punti salute E poi non può attaccare Tsarina Quindi qual è il discorso? Che mentre noi Mettiamo un sacco di danni in gioco Il nostro avversario Ok che noi non peschiamo carte premio Ma non può usare i pokemon Che noi stiamo danneggiando A un certo punto I 6 pokemon in gioco Metti che 2 o 3 sono attaccanti Tutti gli attaccanti hanno su dei danni E non possono quindi attaccare Tsarina Certo posso fare magari boss K-Po in panchina Però non è che uno gioca boss Ogni turno Per 4 turni di fila A un certo punto Ti ritrovi davanti Tsarina Non puoi attaccare Io magari addirittura Ti ho usato ordine del capo Su un pokemon che non riesci a ritirare E ti metto i danni in panchina A un certo punto Gioco brevieri Faccio tutti i K-Po che voglio E vinco la partita Infatti brevieri lo giochiamo solamente in 1-1 Perché non è una carta da giocare in inizio partita La giocate a metà partita Quando ormai avete capito che Sta per arrivare il momento in cui bisogna fare L'attaccone grosso di brevieri Con cui si pescano tutti i premi E allora a quel punto lo giocate Infatti c'è solamente una linea 1-1 Giochiamo comunque la Pesobol Per poter prendere Rufflet Nel caso finissano i premi E c'è anche un super amo Nel caso dovessero magari mettercelo K-O Quindi abbiamo comunque queste opzioni qua Guardiamo comunque il resto della lista Abbiamo 2-2 Bibarel Per far girare questo mazzo Perché è assolutamente importante Abbiamo sia Manafi Sia Giraci Per evitare di subire danni in panchina Chiaramente questa strategia Non è molto forte contro l'Ozzon Box Che può sparpagliare danni in giro E che comunque gioca un attaccante E ci attacca subito Quindi comunque Non riusciamo a usare la Panic Mask In modo efficace Contro un mazzo come Mew V-Max È molto più semplice Perché Mewa in gioco Deve anche evolversi Non abbiamo tempo di mettere in gioco i danni Come Pokémon poi C'è Luminion Per prendere le carte aiuto Mew per riuscire a prendere Delle carte strumento Come le Caramelle Rare O Battle Pass Viplotta E... Il Battle Pass Viplotta Il Super Pass Viplotta E... E basta Questi sono i Pokémon Per quanto riguarda le carte allenatore Abbiamo Molto importanti Perula Perula ti fa prendere Sarina Oppure Manafi Oppure Luminion Comunque un Pokémon Acqua E la Caramella Rara O magari il Super Pass Viplotta Per mettere i Pokémon in panchina E poi c'è Pepe Con cui prendiamo sempre Una carta strumento Quindi anche in questo caso È molto facile usare Solo il Super Pass Viplotta Al primo turno O a Caramella Rara Al secondo turno Però ci prendiamo anche Delle carte oggetto E qui abbiamo tantissime carte oggetto forti Naturalmente la maschera di panico Ma abbiamo anche Il Sigillo Forestale Da assegnare a Luminion Anche questo è molto forte E poi in monocopia Il Macchinario Tecnico Involuzione Che è semplicemente fortissimo Perché noi sparpagliamo Un sacco di danni Senza mettere Che a poi i Pokémon A un certo punto Possiamo togliere Tutte le fasi evolutive Più alte De Pokémon Che in gioco Il nostro avversario Che si ritrova in gioco Con Pokémon Che magari vengono Messe in K Perché sono danneggiati O magari non vengono Neanche messi in K Perché guardate che Se uno gioca Charizard E usa Caramella Rara Si riprende in mano Charizard Ma la Caramella Rara Intanto è stata utilizzata Le Caramella Rara Sono solamente 4 Magari una è usata Per Pigeot Magari ti resta Uno o due Caramella Rara Nel mazzo E capisci che In alcuni casi Anche se non peschiamo premi È fortissimo giocare Questa carta E in un mazzo come questa Ci sta benissimo Anche perché appunto Abbiamo tanti modi Per prendere le carte oggetto E c'è pure il grande magazzino Per andarsela a prendere Questo è un mazzo Molto consistente Questo non è un mazzo Che bricca Infatti è anche per questo Che mi piace Come carta aiuto Abbiamo anche Kisara Perché naturalmente Oltre a voler pescare Vogliamo anche dar fastidio A nostro avversario Ordine del Capo In monocopia Perché comunque Ci sta a giocare Comunque uno Però tenete presente Che i danni li mettete Dove volete Con Zarina E poi Con Brevieri Fate danno anche in panchina Senza problemi Tra l'altro Girachi in questo caso Non funziona Perché Girachi Blocca i segnali danno Solamente ai Pokémon base E sia Zarina Che Brevieri Sono Pokémon evoluti Però un boss ci sta Tutto sommato Possiamo mettere Due energie su Zarina E fare boss 180 danni E un Pokémon in panchina Abbiamo un paio Di modi per ritirare Comunque Sono abbastanza Abbiamo poi Due anfore terrestri Per andare a prendere Le energie Che sono soltanto Cinque le energie Perché alla fine Ne usiamo due o tre Partite di energie L'anfore terrestre È utile Perché possiamo prenderla Con Pepe Possiamo prenderla Con Perula Possiamo prenderla Anche con Mew Quindi preferisco Avere qualche energia In meno E qualche modo In più Per prenderle E niente ragazzi Non ci dovrebbe essere Altro da aggiungere Su questo mazzo È veramente un mazzo Bellissimo Io mi sono divertito Un sacco A costruire questo mazzo E a giocarlo E fatemi sapere poi Nei commenti Ok dai Ho una discreta partenza Sì dai Direi niente male Iniziamo a mettere in gioco Un po' di Pokémon Vediamo poi Anche poi Cosa che c'è nei premi Ma tutto sommato Mew sinceramente Non starei neanche A prenderlo Perché non posso Neanche metterlo attivo E comunque Ho anche Pepe Per dopo Eventualmente Illuminion Vediamo un po' Bibra ce l'abbiamo Zarina c'è C'è anche Bravery Un bel po' Di carte aiuto Ok Va bene dai Doppio bounce With quindi O magari aspetto Prendere il secondo In realtà forse Meglio mettere in gioco Un Mew Che non si sa mai Cominciamo a mettere In gioco un Mew Dai Ok Potrebbe arrivare Una Kisara Quindi una maschera Di panico Comincerei già Ad assegnarla Per il momento E mettere anche In gioco Rafflet Non vedo poco Un motivo Per cui Non iniziare A metterlo in gioco No invece Aspettiamo Rafflet Aspettiamo Invece E dai Per ora Passo così Peccato Non avrei messo Attivo Mew Sarebbe solo Meglio Riuscire a mettere Ma fa niente La partenza Non è male Non è male Nel senso Mi manca ancora Qualcosì Mi manca L'energia Mi manca La crema Mi manca Tutto Praticamente Però Quanto meno Ho messo in gioco I pokemon Il vantaggio È che Io bloccherò Diversi pokemon Del mio avversario Un turno dopo l'altro Probabilmente Senza venire messo KO tra l'altro Cioè nel senso La panic mask Mi serve fino a un certo punto Contro questo match up Perché comunque Due attacchi Con sarina Riesco a farli E bloccare Due attaccanti È una cosa Molto forte Il nostro dio Adesso riesce addirittura A mettermi K Con sto manate Fin dal primo turno Ma dubito Che ci riesca Con iron hands Con mano ferrea Perché mano ferrea Vuole quattro energie Per fare 120 danni E poi si pesca Una carta premium In più Lui si prende Pepe Una carta aiuto Molto forte Come verete Gioco anch'io Mi obiettivo Per il prossimo turno Sai trovare Caramella rara Sarina Sarina e energia Sono tante cose E posso prendere Senz'altro Caramella rara Con pepe Sigillo forestale Assegnarlo Alluminion Mi manca ancora Una carta però Perché posso Così c'è forestale Posso prendere Sarina Ma poi mi manca L'energia Quindi Intanto il mio avversario Ha segnato Tre energie A questo mano ferrea Niente male Quindi ottima partenza Niente da dire Mi sa che sta Per attaccare Con mano ferrea Al primo turno Niente male A questo punto Mi converrà A mettere attivo Sarina Cioè bounce with Fare il possibile Per evolverlo Per evitare che Ah mamma mia Ha caricato Veramente mano ferrea Wow Ok E ancora Potere di astro Da usare Che suppongo Sarà per una fune Di fuga Perché tutti i pokemon Che ho in panchina Sono importanti Quindi dovrò Regalargli un KO Su Mew In questo caso Wow Decisamente inaspettato Non penso che il suo mazzo Parta sempre così Però in realtà Non mi fa neanche Eccessivamente paura Secondo me Posso tranquillamente Recuperare Questa brutta partenza Con un bel top deck Sono a posto Perché io li blocco Mano ferrea E se li blocco Mano ferrea Lui il prossimo turno È difficile che riesca Ad attaccare KO Mi basta pescare Una di quelle tre carte Che mi servono E poi dovrei Dovrei cavarmene Piuttosto bene Vediamo Energia Quindi vediamo Se appunto Non ho sbagliato A fare i calcoli Ma dovrebbe Tornare tutto Io prendo Caramella rara E Sigillo forestale Poi Gioco Luminion Con cui Tra l'altro Prendo una carta aiuto Per il prossimo turno Quindi mi va benissimo Questa cosa E la carta aiuto Direi che potrebbe Essere Kissara Un bel po' Di carte in mano Sì Sigillo forestale Su Luminion Astro alchimia E prendo Tsarina Caramella rara Qui Assegniamo l'energia Non sto a giocare Rathlet Perché non voglio Regalargli un premio Così Che magari Potrebbe riuscire A pescare dei premi E uso l'attacco Su mano ferrea Chiaramente Lui potrebbe avere L'aspiratore perduto Se anche ce l'avesse Mi farebbe 120 danni A Tsarina Io rimetterei La maschera di panico In questo momento Grazie alla maschera di panico Questa qua Visto che questo pokemon Ha 40 punti di salute O meno Non può attaccare O meglio Può attaccare Ma non può attaccare Tsarina Quindi in realtà Lui può fare bosca Poi in panchina E pescarsi dei premi Per questo che Chiaramente Mano ferrea E tosto da gestire Ha usato pepe però Se lui avesse avuto Boss potrebbe pescare Altri due premi Quindi Ok Funi di fuga Va bene lo stesso Quindi in questo caso Devo stare un attimo attento Però poi comunque Chissara Chissara da due E Inizia a essere più complicato Per riuscire a mantenere Questo ritmo Però ecco Contro i mazzi normali Lui non dovrebbe pescare Due premi a turno Quindi Questo Non è certo Un match up semplice E non è certo Frequente Che lui parta In questo modo Perché Guardate che partenza Che ha avuto Primo turno Mano ferrea Quattro energie Tenete conto che Raikou Si gioca spesso Il primo turno Perché è difficile Caricare Mirai Che ne vuole tre Di energie E con Raikou Ne vuoi solo due In questo caso Guardate lui cosa ha fatto Comunque Vediamo se adesso Lui intende attaccare Con Raikou Oppure no Io gli mando Attivo mana Ovviamente Se dovesse attaccare Se dovesse attaccare Con Raikou Non mi dispiacerebbe Neanche tanto La cosa Perché pescherebbe Un premio soltanto Poi si dovrebbe fare Boss K.O. Sul Minion Con mano ferrea Io fossi lui Attaccherei con mano ferrea Esatto Adesso per me È importantissimo Usare questa Chissara Perché io ho bisogno Di prendere un attimo Di tempo Visto che lui Ha avuto questa partenza Eccezionale E anche il secondo turno Devo dire che Gli è andato veramente bene Adesso quindi per me È davvero importante Riuscire a recuperare Un po' di terreno Vediamo Minerball Non so bene Se potrebbe servirmi qualcosa Forse un Bounce With Si può prendere Non vedo perché no A questo punto Rufflet Possiamo iniziare a giocarlo Visto che ormai la partita Sta arrivando In un momento molto critico Maschera di panico Ma mettiamola qua Più che altro Non voglio avere Troppe carte inutili Nel mazzo Chissara Tu peschi solo due carte E mi auguro Che rimarai bloccato Almeno un turno Perché se no Cavoli Bibarel Vediamo cosa c'è nei premi Ma non mi sembra Ci fosse niente Di troppo importante Infatti Perfetto Se no i premi Sono abbastanza tranquilli Questa energia La posso tranquillamente Assegnare Vale la pena Rimischiare qualcosa Direi di no Sì Magari questo Bounce With Comunque posso giocare Per pescare qualcosina Di più Ho un'altra Chissara Per il prossimo turno Che non si sa mai Perfetto Adesso uso Gelo Pianta E stavolta La uso È abbastanza indifferente O su Raikou O su Miran Su Raikou Che è più facile Che possa attaccare Adesso Lui non deve vedere boss Se no ha vinto la partita Tre carte in mano Sigilo forestale Usato Un boss Già usato Non ha peschini In gioco Gli è andata molto bene Sta partita Mi auguro che adesso Si calmi un attimino Per me è una cosa forte Adesso sarebbe anche Magari fare boss Su Fluffy E mettere danni in panchina Quindi anche questa È un'opzione carina Anche se ho soltanto Un boss Nel mazzo Guardate che roba Manda attivo Raikou Ah vuole pescare una carta Sì ci sta Assegna Assegna comunque Manoferra Beh è giusto Pesca una carta Vediamo che cos'è Io non userò Chissara In questo turno Perché usare Chissara Significa Fagli vedere Delle carte in più Cioè Regalargli due carte in più Quindi userò Perola Ok Ah tra l'altro Ha assegnato L'amuleto Quindi non posso Metterlo capò Con bravieri Con grande facilità Peccato Quindi mi servirà Un turno in più Usiamo comunque Perola Eh Pokémon ha senso Prendere Cioè Settare un'altra Direi di no Fune di fuga Potrebbe essere Una giocata interessante Fune di fuga Se giocassi Fune di fuga Potrei mandare Attivo Bouncewit No Non credo sia Sia necessario Potrei prendere Semplicemente Candy Sarina Che è un bel modo Per gestire anche Una sua eventuale Fune di fuga Faccio così Posso rimischiare Ma magari Rimischio soltanto Mew Pesco un paio Di carte 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 che non potrò Smaltire Cioè Dopo che L'ho attaccato Io Prossimo turno Con Breviere Avrei pescato Sei premi Avrei vinto La partita Adesso Invece Non posso Vediamo se Lui comunque Riesce A inventarsi Qualcosa Deve semplicemente Pescare un boss Adesso Quindi Vediamo Ah Faccina sorridente Sta mettendo attivo Manoferrea Ahia l'ha trovato Beh Diciamo che Ha avuto un bel po' Di fortuna Il mio avversario In questa partita Perché tra il primo turno Il secondo E anche adesso Ok Dai Ci sta Chiaramente Il mio mazzo È un mazzo Basato su una combo Quindi ci sta Che non sempre La combo entri Però diciamo Che in situazioni Normali Questa partita Anche perché lui ha fatto Tre attacchi per vincere In situazioni normali L'avrei vinta Quindi dai Partita interessante Però Secondo me Alla fine L'avrei dovuta vincere io Questa qua Vabbè Fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate Poi nei commenti Se sono io che sto solamente Rosicando adesso Oppure se effettivamente Il mio avversario Ha avuto tanta fortuna In questa partita Vuoi provare questo mazzo Anche in real? Ti consiglio di acquistare Le carte singole Su CarTrader Ricordati che con CarTrader Zero Tra l'altro Paghi una sola spedizione Quindi risparmi un sacco di soldi In descrizione di questo video Così avrai due ore Cos'è risultato su CarTrader E supporterei questo canale Ok Comincio io E Comincio con una partenza Ottima Davvero ottima Quindi va bene così Allora iniziamo a mettere in gioco Un po' di Pokémon Tra quelli che ci servono Però Devo dire che qua Si ragiona Si ragiona e come Un bel po' di Ultra Ball Nei premi Per il resto Niente di che Mettiamo anche Il secondo Battle V Pass Non sto a prendere Bounce Wit Perché comunque Non mi serve Mew però va bene Bidoof Egilaci Potrebbe essere Qualunque mazzo Quindi non Non mi sbilancio Per ora Non vorrei mettere In gioco Pokémon Che non mi servono Quasi quasi Prendo un Bounce Wit E l'altro Al limite Lo tengo in mano Che non è il massimo Con Bibare Però al limite Lo scarto Allora Sto pensando Se voglio usare Funi di Fuga Per il prossimo turno Oppure se poi Faccio fatica a ritirare Ma in realtà Secondo me ci sta Dovrei riuscire A cavarmela Mi manca La Panic Mask Al momento Il prossimo turno Posso prendere Tsarina E Switch Senza problemi E poi dovrei cavarmela Vediamo Perfetto Ho messo via Giusto un Ultra Per prendere Bibare Il prossimo turno Dai perfetto Partenza ottima Partenza veramente ottima Non so che mazzo Sto sfidando Vedo Bibare Le giraci Quindi in realtà Potrebbe essere Potrebbe essere Tantissimi mazzi Probabilmente non un mazzo Troppo meta Di solito i mazzi Bibare Cioè al momento Non si vedono molti mazzi Bibare Tre mazzi più forti A parte Cienpao E il mazzo Che sta rivenendo adesso Naturalmente Vediamo cosa sta giocando Lì però Boss Già questo un po' Mi da fastidio Anche se non tantissimissimo Ah E io come faccio A fare le mie strategie Però Se tu fai così Allora Ultra Ball Per Tsarina E Switch Direi Quasi quasi Più che lo Switch Vado ad assegnare Un'energia Perché Ma Non mi va di sprecare Gli Switch Quando poi avrò Pokémon Che ritirano 2 Allora Questo intanto Lo giochiamo Facciamo Ultra Ball Su Bounce With E Perula Direi Ah no Prima devo Ritirare Però è vero Quindi Scartiamo Bounce With Per il momento Ho avuto un'ottima partenza Quindi sono abbastanza tranquillo Ritiro manualmente E sinceramente Non starei neanche A scartare tutte queste risorse Tra cui Perula Solamente per giocare Bibarel Mi faccio bastare L'attacco Gelopianta Con cui metto Un po' di danni Su Gilaci Su Gilaci Perché Bibarel Poi si evolve E visto che Bibarel Si evolve Rischio di mettere Dei danni E poi doverli rimettere Una seconda volta Adesso la priorità È capire un attimo Di un avversario Che mazzo gioca E andare a bloccare Un po' I suoi attaccanti Grande magazzino Mi piace Mi mancava giusto La carta oggetto Evoluzione Quindi sta per evolvere Un po' di Pokémon Forse Charizard lucente Io non posso fare a meno Di pensare Che sto sfidando Come si chiama Skelledurge Non so perché Però secondo me È plausibile Come cosa Ok Arrivano altri Pokémon In gioco Tutti i Pokémon Da pochi premi Quindi Ci vorrà un po' Per metterli KO Vediamo Grande magazzino Cosa prendi Un altro Machinario tecnico Evoluzione Io per ora Sono tranquillo Non c'è ancora Nessuna Grossa minaccia In gioco Sta mettendo Un'energia Su Mew Per poterlo Ritirare Quando servirà Poi questo Bibare In realtà Te lo lascerò Lì attivo Ecco mi raccomando Ricordatevi ragazzi I macchinari Quando li assegnate Si scartano Il turno dopo Quindi il mio avversario L'ha assegnato Per pescare di più Con Bibare Probabilmente Però Non gli serve L'ha scartato Non l'ha usato Panic Mask Perula Prendiamo Magari Un Manafy E un Battle V-Pass Che può fare Un po' ridere Però Sono carte Che non mi servono Al momento E quindi Io posso ora Scartare Queste due carte Inutili Con Ultrabole E prendere Bibarell Evolvo Non mi aspetto K.O. Grossi Il prossimo turno Infatti Io ve lo dico già Vi stavo spiegando Che avrei assenato L'energia air Bazzarina I.X E intanto L'ho assegnata A Bansuit Volevo fare 180 Per mettere K.O. Bibarell Vabbè Come non detto Vabbè Ok E per ora Va bene così Non sto a evolvere Brevieri Per il momento Non serve Dai Gelo pianta Va bene lo stesso Questi danni Li mettiamo Su Charizard Che comunque Potrebbe attaccare Anche se tra un bel po' di tempo Vabbè In realtà Bibarell rimane lì attivo Per un po' adesso E poi vediamo Quando uscite con Brevieri A pescare un po' di premi Qui vabbè Il mio mazzo Sta andando benissimo Il suo non è partito Molto bene Quindi A prescindere Dalla steregia Che sto mettendo In gioco io In realtà Sono in vantaggio Anche perché Il suo mazzo Non sta gelando molto Non abbiamo ancora capito Che mazzo sta giocando Effettivamente lui Ultraball Ok Mi aspetto Che prenda un attaccante E che poi peschi Con Bibarell Ok Luminion Va bene Sono due premi Questa cosa Mi piace molto Qui mi sa che si potrebbe arrivare A pescare sei premi In un turno Con Brevieri Pepe Pepe Ma No Charizard Non penso che sia Con Bibarell Continuo a non capire Che mazzo sta giocando Il mio avversario Anche perché ormai La panchina è piena E non c'è ancora Un attaccante Se pesa semplicemente Una fune di fuga Ci sta E Io mi stai chiamando Bounceweed Qui sono sicuro di poterlo ritirare Perché al momento Non ho in mano Modi Per ritirare E ho anche poche energie Visto che comunque Una l'ho scartata Ora potrebbe anche Utilizzare Mew Però per evolvere cose Di preciso Che non c'è ancora Nessun pokemon in gioco Io prossimo turno Mi sa che uso boss Su Bibarell E inizio a mettere Un po' di danni In panchina Io voglio vedere però Io voglio Voglio vedere Un pokemon in panchina Un pokemon che attacca Perché Non riesco veramente A capire Che mazzo Sto sfidando Adesso è arrivato pure Manafi E non ci sono attaccanti In gioco Quindi in realtà Io adesso sono tranquillo Perché ora Io gli metterò danni Su tutti e sei Questi pokemon Anzi su cinque pokemon E E non pescherò premi Fino a quando Non ne pescherò sei Tutti insieme Non pescherò premi Prima Non ho proprio bisogno Di farlo Ho anche pescato La caramella rara Addirittura Non devo neanche ritirare Quindi ok Facciamo così Io uso boss Su Bibarell Per rallentarlo un po' Grande magazzino Per prendere Carte che non mi servono Da scartare Tipo il macchinario tecnico Con ultraball Scarto queste carte E prendo Bravieri Così questo c'è Evolvo E pesco quattro carte Adesso bisogna avere Un attimo di pazienza Ancora fare tre attacchi Con Sarina E poi chiudere la partita Questo qua Quasi quasi Tanto vale giocarlo Così l'evolvo Il prossimo turno Gelo pianta Mettiamo su un po' Di danni Sulluminion Ora abbiamo Quattro premi Pronti da pescare Ancora due attacchi Di Sarina E poi con Brevieri Pesco sei premi Una volta sola Il mio avversario Non ha attaccanti in gioco Tranne Charizard Ma Charizard Come fai a utilizzarlo Se io non ti pesco Carte premio Devi mettere cinque energie Kissara In questo momento La cosa più antipatica Che lui può fare È magari fare boss E bloccarmi davanti Bibarell Però io comunque Ho lo switch E ho ancora alcune energie E non ho nessuna fretta Quindi in realtà Penso che questa partita Potrebbe diventare Un po' noiosa adesso Se il mio avversario Non riesce a inventarsi qualcosa Perché appunto Farò ancora tre turni In cui praticamente Non faccio nulla Però È proprio una specie Di scacco matto Come fa a uscirne lui adesso Non può proprio Mi sta lo stando La Panic Mask Vabbè Pazienza Ne prendo un'altra Ben da sfida Ma comunque Non può utilizzare Charizard Lui continua a prendere Carte con Mew Tra l'altro Non abbiamo ancora visto Nulla Di questo mazzo E non si è davvero Ancora visto niente Non può neanche usare Contrachiappa Pokémon Perché io non andrò mai Sotto ripremi A un certo punto Uscerò di brevieri Pescherò sei premi E spero che lui non concederà In quel momento Perché si renderà conto Di quanto Di quanto sarà bella Come giocata Panic Mask La riassegniamo subito Uso Pepe Io anche se comunque Ho praticamente vinto Con certezza È giusto che adesso Cerchi di Come si dice Di Di sfoltire un po' Il mazzo È importante questa cosa Perché Arriva Arriva Chi sa Arrivano carte Che possono darmi fastidio Quindi comunque È importante Questa giocata Questa energia Non vorrei segnarla Vuoto No dai Accontentiamoci Di Di fare Gelo Pianta Stavolta Su Bibarel Ok 5 Manca Un attacco di Zarina Pausciamo di brevieri E siamo a posto Speriamo che non conceda Il mio avversario Perché sarà divertente Quando poi Prescrivo tutti questi premi Tanto ricordatevi Perché è facile Dimenticarsi questa cosa Giraci Pare Se ne danno in panchina Solamente dai Pokémon base Quindi ricordiamoci Di questa cosa qua Quindi sia Zarina Che brevieri Possono attaccare tranquillamente Con Giraci in gioco Grande magazzino Lo Stathones Anche questo Chiaramente non mi serve Proprio a niente Ok Il mio avversario Passa Ci siamo quasi Anche qui posso usare Perola abbastanza vuoto Posso prendere Illuminion E magari uno Switch Non si sa mai E Gelo Pianta Mettiamo su Manafi Ok Se il mio avversario Non concede Io spero che non lo faccia Sto per pescare Sei premi in un turno Il mio avversario Concederà Rendendosi conto Di quello che sto facendo Oppure mi lascerà fare Questa giocata bellissima Con cui pescherò Sei premi In un solo turno Vediamo Il mio avversario Non sta che sto girando Un video Non sa che in questo momento Ci sono delle persone Degli spettatori Che vogliono vedere Questo mazzo Che pesca sei premi In un turno Quindi magari dice Ma si ho perso Concedo No l'ha fatto davvero L'ha fatto davvero L'ha fatto davvero Non pensavo Che l'avrebbe fatto davvero Lo stavo dicendo così Per creare suspense Ma sinceramente Non pensavo Che l'avrebbe concesso Sono rimasto malissimo Noo Vabbè Pazienza Sarebbe stato molto divertente Noo Cavoli Sapevi che esiste Il gruppo telegram Del covo di Weavile Questo è solamente Uno dei tanti benefit Riservati ai abbonati Del covo di Weavile E se vuoi scoprirli tutti Dai un'occhiata Alle storie in evidenza Sul mio profilo Instagram Perché lo spiegate bene Nel dettaglio Eh Ha fatto un malligan Il mio avversario Mi sembrava Che potesse essere Lo stesso mazzo Ragazzi Questo è un mirror Di zarina E tra l'altro Mascara di panico Non serve a niente Perché io prevengo I danni Non gli effetti Degli attacchi Quindi vediamo Chi gioca Il mazzo zarina Più forte Tenendo presente Che io inizio secondo Quindi di solito In un mirror Non è il massimo Vediamo comunque Allora Tante belle carte Battle v pass Vedo che anche tu Giochi bibarel Bravissimo Mi prendo subito Mew Può avere senso Ma In realtà Non per forza Non penso che possa Mettermi K-O Il prossimo turno Perché so Che attacchi può fare E zarina Mi mette tre danni Su bounce width Al limite Perché non ha segnato Quindi forse Più che Mew Conviene quasi andare A prendersi un altro Bounce width Che è giusto Per avercelo Ok Poi direi Perula Per Magari Un luminon per dopo Beh o chissare In realtà Sicuramente Caramella rara Oppure un altro Battle v pass No dai Facciamo così Questa comunque La posso segnare No in realtà Non voglio segnarla Perché il macchinario Tecnico in evoluzione Potrebbe risultare Molto interessante Spero che lui Non si chissara Al prossimo turno Però non dovrebbe Giocarne tanto Se gioca una lista Simile alla mia Quindi non dovrebbe Essere probabilissimo Quelli lo giochi Grande magazzino Lo posso giocare serenamente Non penso che Lo avvantaggerò tanto Secondo me Posso stare tranquillo E passare così Secondo me Lui adesso Può mettere Dei danni Senza Senza grossi problemi Ho L'uccellino Nei premi Come si chiama Raflet Il piccione Non mi sembra Averlo visto Credo che stia Nei premi Non mi sembra Averlo visto Ok anche tu Le maschere Come si chiama In italiano Panic mask Maschera di panico Ok Perula Ok stiamo giocando Praticamente In maniera Molto speculare Cioè Praticamente La stessa lista Vediamo Chi vince Là però Tu ora Metterai un po' Di danni Io poi farò Lo stesso Anche il gioco Giraci Ma è lo stesso Mazzo Ma scusa Questa lista Che sto giocando L'ho inventata io Non ho preso Spunto da nessuno Hai avuto La mia stessa Idea identica Cavoli Siamo sulla stessa Lunghezza d'onda Io questo giocatore Perché guardate La lista è Praticamente uguale Non è un match Facile il mirror Comunque Non è per niente Facile Ok Vediamo su chi Vuole mettere Ok Su bounce In panchina Fa niente Questa è completamente Inutile Evolviamo Subito Qua Poi Io vorrei giocare Luminion Perché mi serve L'energia Così posso Prendere Perula Non mi piace Molto Di giocare Luminion Sinceramente Potrei fare Ultra Ball Di Battle V Pass E Kissara No E Maschera Di Panico Sì magari Facciamo così Magari comincio Sono carte che non mi servono Queste E posso prendere Bibarel Non c'è Il piccoletto Ah no c'era invece C'era Ok Come non detto Macchinario in evoluzione Sarà forte in questo match up Teniamolo presente Secondo me sarà una carta molto forte Dai energia erba Così Peccato Ah il boss non è male Forse non subito Però magari più avanti Quando metterà Bibarel Dai Luminion Prendo Pepe Così prendo La roba per prendere le energie E un sigillo forestale Tomare mi fa sempre comodo Uno E due Con l'anfora Eh cosa scarto però Ah magari Posso scartare Chissara Direi che posso scartare Chissara Abbastanza serenamente Sì Prendiamo due energie Ok Ah potevo usare Molto prima Questa carta qua Per prendere Le carte in più Da scartare Che non mi servivano Pazienza Un'altra maschera Di panico Che ho avuto Un po' fretta A riprendere E allora aspetta Da segnarla Dai ascolta Facciamo così Mette un po' Le segnalini Su Tsarina Io ho un macchinario Tecnico Lui potrebbe avercelo Anche lui Tra l'altro Quindi vediamo E' un po' strano Trovarsi a giocare Mirror Giocando un mazzo Come questo Lui comunque Non ha messo Bibarel il turno Prima Quindi può darsi Che a livello Di consistenza Si è messo Un pochino Meno bene Di me Pepe Ok Potrebbe essere Un ultra ball Per Bibarel E magari Una caramella rara Se ha in mano Un'altra Tsarina Ok Un'altra maschera Di panico Probabilmente Vuole scartarla Interessante Questa partita Sinceramente Non so bene Ok Tu giochi anche Olucia Interessante Come mai Come mai giochi Olucia Secondo me Non serve Olucia In questo mazzo Perché metti Comunque Un danno E un danno Sono pochissimi Ha preso Ha preso Bibarel Non ci ha fatto caso Energia Qui dietro Ok Ecco Bibarel Forse 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 il boss In realtà Mi conviene Ok Ok Le ho messi Su Tsarina O forse Devolvo il prossimo turno Così va capo anche Bidoof Sì forse è meglio fare così Adesso potrei usare Il sigillo forestale Per evolvere Un altro Tsarina Qui sono un po' più tranquillo Forse voglio fare boss Su Bibarel No Però boss su Bibarel Cosa mi serve Boss su Bibarel Ed evolvere Tsarina No In realtà Mi sa che voglio Voglio usare Il sigillo forestale Per prendere Magari No Ma anche prendere Pepe o Perula Cosa cambia Prendere tipo Mana Tsarina Ce l'ho già in mano L'altra Prendo direttamente La Candy Che è l'ultima Tra l'altro Gioco Candy Tsarina E assegno anche L'energia Così questa c'è La maschera di panico L'assegno Tanto per Sperando di non subire Il capo al prossimo turno Ma non dovrei Anche se forse Sarebbe stato meglio Non assegnarle Aspettare un attimino Sto pensando Se voglio usare Già boss Subibare Adesso Per fargli fare Un attacco in meno Forse sì Altre carte in mano Sono pochissime Potrebbe non riuscire A ritirare È un mazzo Che non ha molti modi Per ritirare Se giochiamo Se giochiamo La stessa lista O con qualcosa di simile Ok Metto un po' Di danni Su Bibarel Il mio obiettivo Adesso vediamo Cosa fa lui adesso Però nella mia testa Al prossimo turno Devolvo sia Tsarina Sia Bibarel Lui si ritrova Con due bounce Sweet in gioco Ok Uno Tsarina ci sarà Quindi magari Vediamo se adesso Riesce ad attaccare Però ecco Mi sa che il macchinario Tecnico Involuzione Sarà una carta molto forte In questo caso Un'energia qui Interessante Un po' di carte Un altro Tsarina Mamma mia Ha trovato lo switch Ah vuole attaccarmi Per mettermi KO Mi sa Ha pure trovato Perula Ok Ok Però scusa Ma io li devolvo lo stesso Quante caramelle rare hai usato Un casino Tu tre caramelle rare hai usato Ti devolvo tutti i Pokémon Pesco due premi E devi trovare L'ultima caramelle rara Sì lo facciamo lo stesso Anche se non pesco premi Ti devolvo tutti i Pokémon Sì Secondo me No Ma ho già assinato La Panic Mask Lo spero come ne sarei Pentito Ah però posso attaccare Anche Con Bibarel In teoria Eh devo attaccare Con Bibarel Per fare sta giocata Perché ho assinato La Panic Mask Come l'ho assinata Prima me lo sono pentito Subito Anche Mew Va bene come attaccante Forse meglio A meno non resto Con Bibarel attivo Ma le energie Riuscirò a trovarle Adesso che ne gioco Così poche Mamma mia Facciamo Funi di fuga Qui qualunque attaccante È indifferente Devo riuscire a fare Questa giocata ragazzi È difficile Io ho paura Che non riesco a trovare L'energia Anche se Ho anche tante carte aiuto Che mi fanno trovare L'energia che mi serve Ok Mando Luminion Poi uso Switch Assegno il macchinario Sfoltisco il mazzo Togliendo una carta oggetto Prendiamo sigillo forestale Sigillo forestale Lo assegniamo qua Pesco 4 carte E poi ne vedrò 6 Con Mew Mamma mia Eh però Però Chissara Dai Allora Scartiamo le carte Che non ci servono Beh a questo punto Un Rufflet Lo posso anche prendere Che potrebbe Tornarmi utile Nel corso della partita E sono tutte carte Che non ho più nel mazzo Almeno Rufflet Minerball Per un altro Bounce width Ok Chissara Raga Raga Sto missando Ho visto Un miliardo Di carte Mi rifiuto Di pensare Che sto missando E nei premi L'ultima Non ci posso Credere E nei premi L'altro Coso L'altra Anfora Cavoli E a giocare Poche energie Cavoli Mamma mia Avrei vinto Le avrei devoluto Tre fase due Pescando due premi E gli restava Una sola Candy Avrei vinto Cavoli Dov'è che potrei Avere sbagliato E beh Sicuramente Il fatto Che non conoscevo Il match up E che quindi Questa cosa Mi è venuta in mente Troppo tardi Dove venire in mente Prima No ho sbagliato Quando sento Questa Panic Mask Come l'ho segnata E ve l'ho detto Che avevo sbagliato È stato veramente Un gravissimo errore Non ho più nemmeno Modo per ritirare Il mio adesso Cioè Ho tutti i modi Per ritirare E mi sa che Li ho usati Forse ne resta Ancora uno Ma non ne sono sicuro Infatti Ho due energie È l'unico modo Che ho E ho Kissara A questo punto Usiamola Brevieri Lo gioco Questa vabbè Assegniamola Ah no Non ho Kissara Perché ho detto Che ho Kissara Che non ce l'ho Non riesco a tirare Non ho trovato L'energia Toccarterò nel mazzo Ce n'è una sola Cavoli ragazzi Eh no qua Ho proprio sbagliato Peccato Che ho sbagliato proprio Non voglio arrendermi Perché comunque Non lo so Ho l'impressione Che si potrebbe ancora Provare a vincere Questa partita Anche se è veramente difficile No non posso più vincerla Questa la devo concedere Ok ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come vedete Questa è stata un mazzo Veramente Molto particolare Non giocavo mazzi Di questo tipo Da molto tempo Cioè quei mazzi Che mettono un sacco di danni In gioco E poi vincono un turno Partite che mi hanno fatto rosicare Abbastanza devo dire Specialmente l'ultima Cavoli Pensavo davvero di riuscire a fare Quella giocata Con come si chiama Con il macchino tecnico In evoluzione Peccato non esserci riusciti Però davvero È un mazzo secondo me Può giocarsela bene Contro tutti i mazzi del momento Ed è un mazzo davvero divertente Quindi vi consiglio Avrò tanto di provarlo Ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Ciao ragazzi